La recensione in programma per oggi non era questa qui, ma ve ne parlerò quando quel problemino che mi ha portato a recensire queste due Barbie Extra Fly sarà risolto. Oggi quindi guardiamo queste due Barbie in versione da spiaggia. Abbiamo una Barbie e abbiamo un Ken. Non vedo l'ora di deboxarli, voi come sempre state guardando delle anteprime, ma io non le ho ancora tirate fuori dalla scatola, quindi corriamo ad iniziare subito questo video. Ed eccoci qua con le due scatole, una di fianco all'altra e li guarderemo entrambi in questo video. Le loro scatole sono completamente identiche a quelle delle Barbie Extra Fly che abbiamo già visto, la Snow e la Desert, con ovviamente qualche piccola differenza, ma anche in questo caso hanno questa forma di valigia con il bordino completamente viola e la maniglia con la scritta Extra, ovviamente con le nuvolette e l'arcobaleno. In basso c'è sempre il logo Barbie Extra Fly olografico, mi piace davvero molto anche con questo piccolo aeroplanino che gli gira intorno. Nella scatola della Barbie abbiamo ovviamente un artwork proprio di lei, che devo dire secondo me non è bello tanto quanto la Barbie stessa. E invece ovviamente nella scatola di Ken abbiamo l'artwork di Ken, sempre con tutti i suoi accessori e il suo look da spiaggia. Visto che tutti e due sono pronti per andare al mare, sulle loro scatole troviamo gli stessi identici adesivi, sono proprio uguali per entrambi, sia su un lato che anche ovviamente sull'altro, ma in più gli stessi adesivi li troviamo anche nella parte superiore della scatola, dove c'è una mappa e questo triangolino, che adesso vedete al contrario perché sono imbecille, con una piccola palma e appunto una spiaggia. Sul retro invece di entrambe le scatole ritroviamo il logo Barbie Extra Fly, questa immagine che ci fa vedere tutte le bambole di questa linea, un'immagine molto carina di questa Barbie afro assieme al Ken proprio sulla spiaggia, mi piace tanto questa immagine, magari poi proveremo a rifarla. E in più sulla scatola di lei troviamo ovviamente una foto con tutti gli accessori indossati, con il vestito e tutto quello che c'è nella scatola, e invece nel retro della scatola di Ken c'è ovviamente una foto di Ken. Ma visto che a noi non piace perdere tempo, andiamo subito a deboxare. Una volta fuori dal box devo dire che sono davvero bellissimi entrambi, mi sono innamorato di queste due bambole, penso che mi piacciono ancora di più con fronte alla Snow e alla Desert, e sì ragazzi che questa linea Barbie Extra Fly mi sta piacendo davvero tantissimo, e qui confermo che secondo me hanno migliorato tantissime tantissime cose. Ma io inizierei guardando lei, quindi avviciniamoci al suo viso, che trovo essere la cosa più bella in assoluto di questa bambola, il suo viso mi piace da morire perché ha gli occhi non troppo grandi, di questo castano quasi color miele, sugli occhi indossa due ombretti, che sono più degli eyeliner che degli ombretti perché nella parte superiore e nella codina c'è questo eyeliner rosso, invece nell'angolo centrale inferiore dell'occhio abbiamo questa linetta gialla che le stanno benissimo. sulle guance, anche se ha questa carnagione scurissima, vediamo che c'è un pochino di blush, sulle labbra ha un rossetto nude, ovviamente nude per una dark skin, e le sue sopracciglia sono completamente nere ma con i peletti disegnati, che vanno tanto di moda adesso e che io apprezzo tantissimo nelle stampe dei visi delle bambole. Questo viso per me è assolutamente wow! I suoi capelli sembrano di un colore unico, ma se guardiamo bene lo vediamo anche già da questa ciocchettina qui, sono neri con tantissime piccole ciocchettine castane, qui sul lato si può sicuramente notare molto di più, si può apprezzare tantissimo, guardate qui si vede proprio che sembrano quasi schiariti al sole, e se andiamo a vederli dal retro vediamo che sono anche molto lunghi e per essere appena usciti dalla scatola non sono neanche troppo incasinati. Hanno queste onde molto beach waves che mi piacciono da morire, in più non c'è alcun tipo di gel, non c'è assolutamente nulla, quindi capelli approvatissimi. Anche se va in spiaggia lei indossa comunque degli orecchini, guardate che razza di orecchini sono decisamente dei mega orecchini che sono a forma di palma, con il tronco colorato d'oro e sopra c'è anche proprio all'altezza del lobo una piccola gemma colorata di rosa, uguali ovviamente su entrambi i lati. Al collo invece indossa diverse collane proprio come tutte le Barbie extra, un giro collo bianco perlato, un altro giro collo che sembra una catenina di plastica trasparente azzurra, una collana invece completamente arancione con delle specie di perle pendenti e poi c'è invece questa collana dorata un pochino più lunga con in fondo anche un piccolo cavalluccio marino e una stella marina. Ma andando a vedere il suo look vediamo che per prima cosa indossa questa vestaglia lunghissima che arriva fino a terra di una stoffa davvero molto bella, tutta verde con questi fiori che credo che siano fiori di ibisco stampati bianchi e rosa ed è stata realizzata benissimo perché la stoffa è semitrasparente, sembra quasi una rete, ma in più qui tutto intorno all'altezza della vita c'è questa cucitura per dare appunto una forma un pochino più stretta e enfatizzarle il punto vita e in più le maniche scendono sempre più larghe per poi chiudersi con un piccolo elastico sul polso e risultare quindi quasi delle maniche a palloncino. Trovo che questa vestaglia, questo copricostume, chiamatelo come volete, sia davvero bellissimo, ma andiamo un attimo a toglierlo. Così da poter vedere meglio cosa indossa sotto, ad esempio questa cintura completamente dorata che dovrebbe rappresentare più cinture composte di catene con anche qui sotto questi charms con tutte le lettere che compongono la scritta extra. Togliendo anche la cintura possiamo anche vedere meglio la sua gonna che è una mini gonna di jeans con la parte sotto sfrangiata e con tutta la stampa extra lungo tutto il tessuto e se le togliamo anche la gonna possiamo ovviamente vedere il suo costume da bagno perché ovviamente se va in piscina oltre agli orecchini, al trucco e alle collane avrà almeno un costume da bagno. Realizzato molto bene anche questo ci sono le spalline cucite di stoffa bianca e tutto il resto del costume, che è un costume intero, è composto da due stoffe diverse con lo stesso disegno che abbiamo trovato prima di fiori sopra alla vestaglia ma in questo caso abbiamo dei colori diversi. Sul suo lato destro è di base viola con i fiori bianchi e arancioni sul suo lato sinistro invece è rosa con i fiori azzurri e bianchi sul retro però vediamo che c'è un solo colore ed è quel rosa con i fiori azzurri e bianchi ma secondo voi potrebbe avere delle ciabattine semplicissime? Per andare al mare ovviamente no e infatti indossa queste scarpe altissime di plastica semi trasparente rosa che sono più che altro dei sandali con una zeppa infinita non sono stati colorati ma comunque non mi dispiacciono sicuramente avrei preferito un piede a punta sapete che io amo i piedi in punta però effettivamente per andare al mare i piedi in punta sono un po' scomodi non si può andare al mare con i tacchi vero che lei ci sta andando con queste zeppe quindi poteva andarci anche con i tacchi però dai diciamo che le zeppe effettivamente un pochino più comode lo sono oltre a quello che abbiamo appena visto con lei arriva anche questa gigantesca borsa a forma di cuore realizzata come se fosse una specie di ragnatela con al centro un cristallo sempre a forma di cuore tutto completamente rosa è uguale su entrambi i lati con attaccati anche due pendagli che si possono rimuovere uno a forma di sole con scritto extra extra spf 50 quindi protezione solare 50 e poi c'è questo qui invece più piccolino che è una conchiglia completamente perlata con la scritta barbie extra fly poi ovviamente c'è il telomare da portarsi in spiaggia completamente bianco con tutte le scritte extra colorate un enorme cappello da spiaggia di plastica azzurra semi trasparente e anche abbastanza morbida poi ovviamente vedremo come le sta addosso un paio di occhieri da sole per proteggere ovviamente anche gli occhi con la montatura bianca e le lenti azzurre semi trasparenti anche per lei come per tutte le bambole di questa linea troviamo il passaporto e il biglietto aereo nel suo caso sono rosa poi troviamo invece il mega biglietto aereo quello gigantesco e per ultima cosa un cocktail che ovviamente in spiaggia non può mai mancare nel suo caso a forma di ananas con anche le foglie qui sopraverdi e una cannuccia infilata all'interno ed eccola qua completa con tutti i suoi accessori tutte le varie cose devo dirlo che è bellissima o lo vedete da soli per me ragazzi è veramente wow 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 triplo wow per questa bambola anche se anche se gli occhiali non sono proprio il massimo o meglio il tipo di occhiali lo stile degli occhiali mi piace molto ma la fanno risultare un pochino strabica per il resto però mi piace davvero tantissimo il cappello è bellissimo tutto è bellissimo la borsa è super oversize è veramente gigantesca ma le sta benissimo e vi dirò sapete che io non amo particolarmente i corpi curvi ma in questo caso credo proprio che la terrò così perché è davvero troppo troppo bella ma passiamo a Ken che anche lui ragazzi secondo me in quanto a bellezza non scherza anche lui ha gli occhi non troppo grandi di questo color miele quasi come la Barbie precedente le sopracciglia molto definite le labbra super carnose davvero molto belle con sopra un leggero color nude ma guardatelo ditemi se non è bellissimo io non so che dire è davvero davvero bello ha un viso abbastanza semplice ma guardatelo anche così troppo figo i suoi capelli sono di due colori perché sono castani con queste mesh verdi e anzi nella parte castana penso si riesca a vedere ci sono comunque dei capelli neri e castani e in più appunto abbiamo questi capelli verdi non mi dispiacciono forse non li avrei messi i capelli verdi anche se comunque sono carini ma sicuramente non avrei fatto questo mucchio di gel sono tutti un blocco di gel sono veramente cemento sembrano un sasso non sono neanche croccanti sembrano davvero un sasso anche il suo look mi piace molto è composto da questa giacca la possiamo chiamare giacchetta una cosa del genere e da questi pantaloncini perché per il resto arriva completamente scalzo poi vedremo cosa mettergli ai piedi ma intanto guardiamo quello che indossa la parte superiore appunto questa maglia maniche lunghe giacchetta chiamatela come preferite è realizzata con questa stoffa di base rosa ma con sopra stampate tutte queste foglie verdi e fucsia le maniche sono lunghe fino al polso e in più proprio nei polsini hanno aggiunto questo nastrino sempre rosa con queste piccole onde stampate fucsia e questo nastrino visto che i pantaloni sono dello stesso identico tessuto lo ritroviamo anche lungo il bordino dei pantaloni un'altra cosa che mi piace molto è come hanno realizzato il colletto perché è stato foderato quindi questa è la stoffa che hanno messo nella parte interna che è rosa tinta unita e questa la possiamo rimuovere semplicemente tramite il velcro che troviamo qui all'altezza della pancia ma prima di rimuoverla vediamo che indossa questa tracolla azzurra con anche questa catenina sempre azzurra di plastica con la scritta extra e qui in basso questo borsello con delle cinghie con delle cinture per tenerlo chiuso carino semplice non l'avrei probabilmente fatto azzurro perché secondo me un pochino si perde non risalta ma è comunque un dettaglio carino ma andiamo a rimuovere il borsello e andiamo anche finalmente a rimuovergli questa giacchetta e ora oltre a vedere che i pantaloni sono chiusi semplicemente con un elastico possiamo anche vedere che il suo corpo è esattamente quello del Ken utilizzato per Barbie The Movie lui non arriva né con orecchini né con le collane ma abbiamo questo orologio sul suo braccio destro sul suo polso destro completamente dorato e questi due braccialetti che sembrano tre sul suo polso sinistro il primo è composto da queste palline che dovrebbero sembrare delle perle e il secondo invece completamente dorato con un piccolo charms a forma di conchiglia viola che appunto dovrebbero sembrare due braccialetti ma come vi dicevo lui arriva scalzo perché le sue scarpe possiamo chiamarle scarpe sandali, ciabatte li troviamo nella scatola sono di base azzurre con dei dettagli fucsia proprio come tutto il suo look la suola è fatta con queste bellissime onde molto carino sotto c'è scritto anche Ken ed è tutta completamente bianca anche con lui arriva ovviamente il telomare in questo caso però con queste sfumature di colore senza alcuna scritta poi troviamo questo che credo sia un surf anche se non credo si chiami surf non lo so comunque questa cosa con la scritta extra decorazioni fucsia e anche l'aggancio per attaccarglielo alla caviglia questo bellissimo ma veramente bellissimo borsone lo vorrei pure io tutto completamente lilla con questo effetto trapuntato e qui davanti la scritta Ken extra finalmente non c'è scritto Barbie ma c'è scritto Ken e con questo charms giallo a forma di stella marina con scritto Barbie extra fly prima probabilmente avete notato che indossava queste cuffie attorno al collo glielo rimosse perché non mi piacciono molto ma comunque con lui ci sono anche queste cuffie viola semplicissime poi troviamo questi occhiali sempre viola ma di plastica trasparente molto carini spero gli stiano bene anche lui ha un super cocktail ma se lei aveva l'ananas lui ce l'ha a forma di cocco con all'interno anche un piccolo fenicottero sempre un ananas e una cannuccia azzurra e anche lui ha il mega biglietto aereo il passaporto e il mini biglietto aereo che però nel suo caso sono gialli ed ecco qua anche lui con tutti i suoi accessori addosso e devo dire che non ha quasi nulla da invidiare alla Barbie di prima dico quasi perché le sue scarpe non mi fanno impazzire ma per il resto ragazzi cioè parliamone wow due wow due wow due wow se li merito tutti anche perché mi piace da morire come gli stanno questi occhiali secondo me sono davvero perfetti per lui confermo che questa giacchetta questa maglia questa camicia insomma questa cosa è bellissima gli sta benissimo e anche queste ciabatte questi sandali queste robe che a me non piacciono però devo ammettere che sono fatte bene e che gli stanno bene soprattutto sono stra abbinate con il resto del look e quindi questi erano i due nuovi Barbie e Ken della linea Barbie Extra Fly quelli che vanno in spiaggia ma ve l'ho già detto mille volte con tutto quello che arriva assieme a loro come vi ho già detto lei è assolutamente triple wow mi piace da impazzire lui doppio wow potevano fare per mio gusto alcune cose un pochino meglio l'unico grande difetto di queste bambole qual è? la mancanza dello stand ho recuperato io due stand da delle altre mie bambole e trovo che per delle bambole fatte così bene sia una grossa mancanza se ci fosse lo stand sarebbero veramente quadruplo wow soprattutto lei e più la guardo più mi convinco di non metterle un corpo normale ma di lasciarle il corpo curvi è davvero perfetta ora però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e soprattutto voglio sapere di questa linea chi preferite dopo averne viste ben quattro in due recensioni scrivetemelo qui sotto in un commentino io so già chi preferisco tra tutti e quattro ma ve lo farò sapere mettendo un cuoricino a quelli che preferiranno la stessa mia bambola io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto vi sia tornato utile le solite cose positive se ci sono riuscito lasciatemi qui sotto un like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto se vi va seguitemi su tutti i social dove mi trovate con il nome toys expression e su instagram anche con un secondo profilo toys expression dolls vi ricordo anche quando acquistate qualche bambola di pubblicare una storia instagram con i vostri acquisti taggandomi così potrò vedere anch'io cosa acquistate e ricondividerle sul mio profilo intanto ragazzi come sempre vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao